Mi sento alla grande e si lamenta. È questo il sintomo? Le ho detto che era una perdita di tempo. Noto i colori più di prima e la musica io. Adesso la sento veramente la musica. Sa, ho 82 anni e dovrei giocare a canasta insieme a quelle altre vecchie signore della mia età. Ma adesso, ecco, quando passa un ragazzo con un bel sedere, non riesco a smettere di guardarlo. Ho anche un'attraente barba sexy. E lei pensa che guardare un ragazzo con un bel sedere sia segno di malattia? È cominciato tutto un mesetto fa, quando Mark mi ha affittato il DVD di Via Colvento, però ha sbagliato DVD. Ah, certo, dimenticavo, è stata colpa mia. E naturalmente era troppo occupato per andarlo a cambiare. Perché sa, non ho niente da fare. Insomma, l'ho guardato e c'era un attore che ci lavorava, uno giovane che si chiama Aston Kutcher. Risultato, ora penso sempre a Aston, in continuazione. E dico, in continuazione? Ah. Lei, tra l'altro, me lo ricorda molto. Stessi occhi da letto. Sì, in effetti ci scambiano sempre. Io immagino che lei debba controllarmi il cuore. No, 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 ora non è necessario. Te l'avevo detto. Ma la ricovero comunque per fare degli esami. Ma quali esami? È solo vecchia. E lei è insopportabile. Sua madre ha avuto un cambio di personalità, deve essere controllata. Mando un'infermiera per le carte. Io sono troppo bello per quelle. E lei è insopportabile.